Se io fossi Veneto lavorerei per 50 anni, Zai, governatore. Il no del vicepremier Antonio Tajani al terzo mandato per i presidenti di regioni rompe a mestre durante l'avvio dei lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario con lo scalo veneziano. A rispondere al collega di governo è un altro vicepremier leghista Matteo Saldini che ai giornalisti spiega che sarebbe pronto sin da subito a modificare la legge dei due mandati. I cittadini hanno sempre ragione, quindi se i cittadini scelgono ancora quel sindaco o ancora quel governatore o ancora quel parlamentare dovrebbero avere il diritto di farlo. Secondo me significa limitare la possibilità di scelta per i cittadini. Mi spiace che qualcuno lo voglia limitare. Uno scontro che ha già il sapore di campagna elettorale con le anime interne al centro-destra intenzionate a far sentire il proprio peso per la scelta di quello che sarà il candidato. Il no di Forza Italia da un lato, l'apertura del carroccio dall'altra in un confronto che vede nel mezzo quei governatori in scadenza di mandato, come lo stesso Zaia. Penso che il tema del blocco dei mandati sia qualcosa di anacronistico visto che ho trovato cittadini che vorrebbero eleggere il sindaco uscente ma non lo possono più rileggere. Anacronistico perché ci sono solo due cariche che vengono elette direttamente dai cittadini che sono il sindaco e il presidente della regione e guarda caso sono le due cariche che hanno il blocco dei mandati il che vuol dire che il sindaco non può andare a fare il sindaco per più di due mandati ma portare una vita in Parlamento. A me piacerebbe avere una risposta rispetto a questo. Ho letto che dice che è sano. La giro con una domanda. Cosa vuol dire sano bloccare l'amministratore dopo dieci anni? Perché sano si presta a molte interpretazioni. Siccome io penso che sano sia anche un termine pericoloso vorrei capire da tagliani cosa significa sano. E a chi anche in passato aveva giustificato il blocco dei mandati tirando in ballo il rischio che si creino centri di potere il presidente del Veneto replica così. Questo paese deve decidere. Se vuole avere la figura centrale e l'attore protagonista deve essere il cittadino nel scegliere la classe dirigente bisogna sbloccare i mandati. Se vuole lasciare tutto in mano alla politica ne prendo atto. mi chiedo come mai non si propone mai il blocco dei mandati ai parlamentari.